Carlo Silipo, inizia un'altra estate di lavori per il Zatterosa? Sì, ora siamo qui ad Ostia da circa una settimana a completo, anche con le finaliste del campionato italiano. Stiamo cercando di mettere il cosiddetto fiede in cascina, quindi grande lavoro atletico in palestra, tante ore in acqua sia nel nuoto che nella preparazione tecnica e tattica. E' un qualcosa che poi ci ritroveremo nel momento importante che sappiamo quest'anno nel Mondiale di Fukuoka. Tra questa preparazione e il Mondiale, la World Cup in California, una tappa di passaggio oppure ci sono belleità di voler fare bene? Sicuramente andiamo lì con l'obiettivo di voler fare bene, ma con la consapevolezza che non saremo al top della condizione atletica, perché comunque tutto quello che stiamo facendo ora è mirato al Mondiale, che oltre al prestigio del valore di un Mondiale, dà anche i primi due pass olimpici. Quindi andremo a Long Beach con la mentalità di voler fare il miglior risultato possibile. La bravura deve essere proprio questo, cercare di ottenere il massimo in un momento dove magari mancherà quella lucidità che poi dovrà venire fuori durante il Mondiale. Le indicazioni del campionato ti hanno portato a convocare un gruppo ben allargato di ragazze, ma le 15 per il Mondiale nella tua testa già ci sono o ci sono margini di cambiamento? Guarda Dario, come hai detto tu, il campionato mi ha dato degli spunti interessanti. Ad oggi ancora non ho quella certezza. Ti dico che tutte le ragazze che sono qui si stanno impegnando al massimo, stanno dando tutto per migliorare e per poter partecipare al Mondiale. Quindi le difficoltà per me ci sono e questo per un CT è sicuramente un bene. Grazie a tutti.